rapporto dai 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 entra dentro un po' di copertura però porco di dia quello che sta a fare il medico la scendevamo eh te lo volevo dire ho tenato male guarda il medico la però sto spaisato eccolo dove era? no cambiamo la mano eh senti come frullano devono dare una mano al medico subito immediatamente si dove vado chi è che migliore in me? vai 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 oh no il medico c'è aspetta dai kulla vai 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 spara 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 noulos pratica ottimo ottimo da già andiamo tutti la dai dai ci andiamo andiamo occhio occhio no Grazie a tutti. a 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